L'Aula del Consiglio regionale affronta la discussione del bilancio, quali sono i punti centrali? I punti centrali sono una tappa fondamentale per il percorso di stabilizzazione dei nostri conti, risanamento della nostra regione ma allo stesso tempo scelta delle politiche per noi prioritarie che sono il diritto allo studio universitario, le politiche sociali, quindi il rapporto con comuni e enti consorsi socioassistenziali, le politiche ambientali, ci sono misure sulla qualità dell'acqua e la qualità dell'ambiente, le politiche per l'infanzia, i cosiddetti extra-lea, cioè quelle prestazioni che attengono alla salute delle persone che sono a cavallo tra la sanità e le politiche sociali. A livello di fondi possiamo dare qualche numero? Il nostro bilancio è dell'ordine dei 11 miliardi al netto di tutte le partite di giro, in questi 11 miliardi la sanità pesa per circa 8 miliardi e mezzo, 8 miliardi e 6, in gran parte finanziata, anzi quasi esclusivamente finanziata da un pezzo del Fondo Nazionale. Con il resto dobbiamo garantire il funzionamento della macchina e poi le politiche che dicevo prima, le sole politiche sociali cubano oltre 100 milioni di euro e l'aver stabilizzato queste risorse su un triennio e non quindi accontentarci di garantirle anno per anno a spizziche e bocconi, secondo noi è un bel segnale per chi opera nel campo. Il però è che certamente questo bilancio, come quello ormai degli ultimi 5 anni, dal 2013 in poi cerca, anche se faticosamente, però di riportare in piano i tanti dissesti che precedentemente vennero fatti all'interno del bilancio regionale. Questo è certamente l'aspetto positivo. L'aspetto che noi crediamo sia negativo è che non interviene in modo sufficiente rispetto a quelle che sono, secondo noi, due grandi priorità. Una è quella del lavoro, il secondo è quella invece dei servizi particolarmente alla famiglia, le persone non autosufficienti. Sicuramente un bilancio che arriva, come al solito, negli ultimi anni molto in ritardo, noi dovremo approvarlo entro dicembre, siamo a fine marzo e quindi grave ritardo, grande precarietà anche per quanto riguarda la regione. Abbiamo, come al solito, un debito enorme che stiamo faticosamente riducendo nelle rate annue ma allungando nel tempo, quindi oltre 450 milioni per pagare il debito, frutto di scelte sbagliate del passato. Criticità, ovviamente, politiche sociali e sanità. Sanità, soprattutto, la mobilità passiva, cioè quanto i piemontesi si vanno a curare fuori dalla regione. Aumenta, purtroppo, ogni anno per via dei tagli fatti ai nostri ospedali, politiche sociali che tengono, però purtroppo non c'è un rilancio per aiutare gli anziani, le persone più fragili e le persone che hanno delle difficoltà anche economiche. Sicuramente noi ci aspettavamo un bilancio più aggressivo, con una maggiore attenzione verso le fasce deboli, verso gli anziani, i bambini, i disabili. Qualcuno o qualcosa si sta muovendo, ma noi siamo assolutamente soddisfatti. Dobbiamo però riconoscere al dottore Schinia, vicepresidente del sessore bilancio, lo sforzo perché ha risolto un problema degli 80 milioni di debiti fuori bilancio, quindi di questo bisogna essere riconoscenti e dargli onore al merito. Grazie. Grazie.